... Mamma mia Ale, che serata, che serata! Ma do, fra, da paura, assolutamente da ripetere. Anzi, sai che ti dico, settimana prossima replichiamo. Ci sto. Beh, ora me ne scappo a casa perché sono completamente distrutto. Oh, caffettino domani? Ok, dai, quando vuoi. Basta che mi fai uno squillo e ti passa a prendere. Oh, buon bello. Ci vediamo domani. Grazie, sai. Dai, ciao Ale, a domani. Ciao, ciao. No, ma porca. Che è successo? Eh, niente, fra, non trovo le chiavi. I miei tornano domattina, quindi, non so, mi sa che stanotte me la passo fuori. Beh, se vuoi, puoi dormire da me? Massimo, dai. Che ingenui. Y'all ready for this? No, ma non. No, ma non. Sous-titrage Société Radio-Canada